Favorevoli, incerti o contrari? Per i pesaresi il tema della vaccinazione anti-Covid, partita da qualche giorno per il comparto sanitario e spedaliero, non trova un riscontro unanime. Alcune tra le persone interrogate sarebbero disponibili a ricevere il vaccino in tempi rapidi, a contrario di altre il cui pensiero non risulta essere lo stesso. Io sono favorevole, molto favorevole, perché altrimenti non ne veniamo fuori. Sì, sì, anch'io assolutamente, quanto sarà il mio momento lo farò e con me tutta la mia famiglia, assolutamente, non vediamo l'ora per uscire definitivamente, non so, ma non se ne può più, no? Assolutamente sì, tutta la famiglia, anche perché abbiamo avuto un caso grave in famiglia, fortunatamente ne è uscito fuori, ma assolutamente sì. Sono assolutamente favorevole, lo farei, assolutamente sì, subito. Il mio, sinceramente, il mio parere personale al momento è abbastanza titubante, nel senso non sono totalmente favorevole, anzi direi proprio che non sono favorevole alla vaccinazione. Secondo me ci vorrebbe un'informazione un po' più a 360 gradi, vengono comunque sempre fatte parlare le solite voci e quindi mi sembra una cosa sempre molto abbastanza di parte. Io cerco di informarmi anche attraverso altri canali che esulano un po' dall'informazione pubblica e questo provoca un po' di contrarietà da parte mia. Io sono favorevole, tant'è che lo farò a breve perché lavoro in un RSA e lo farò. Diverse le voci anche di chi, a prescindere dalla favorevolezza o contrarietà al vaccino, preferirebbe prendersi più tempo per ragionare sulla scelta da intraprendere. Al momento aspetto, voglio vedere un attimino un pochino i risultati perché comunque ancora non è che sono un pochino diffidente, però sicuramente lo farei. Dipende anche cosa comporta, se anche le allergie, queste cose così, un attimino un pochino è tutto da vedere, però non sono contraria. È un campo minato quello delle vaccinazioni, quindi diciamo che ancora non ho chiaro proprio alcune informazioni, per cui mi voglio documentare meglio per poi decidere cosa sarà. Allora guarda, io ancora al momento sono incerta, quindi mi informerò sicuramente meglio e poi vedrò di prendere la mia decisione. In effetti c'è molta confusione sul fatto, quindi questo è quello che penso anch'io. Non c'è una cosa chiara, anche perché da quello che sento ci sono anche persone totalmente contrarie, anche nell'ambito invermilistico, che non si sentono di fare questo vaccino. Però è una cosa un po' ognuno, come si dice, veramente ognuno ha la sua propria opinione.